Sono Zetaron, Orco Verde mi ha minacciato ed insultato. Oh, poverino. Ragazzi, questo è un altro video particolarmente particolare. Questo video è dedicato ad un bimbetto barra bimbo minchia che ha un canale di 600 e passa iscritti. Un canale morente che sta sprofondando letteralmente nella merda. Sinceramente non volevo fare questo video, solo per il semplice motivo che facendo questo video molti si interessano dell'argomento, di quello che è accaduto e daranno visibilità al canale di questo essere. Prima di cominciare a spiegarvi quello che è successo, volevo informarvi soprattutto a te, Zetaron, che ho fatto pace con Dex Lone. E sapete perché mi riferisco proprio a Zetaron? Perché questo bimbetto era contentissimo di quello che è accaduto tra me e Dex Lone qualche giorno fa. E questo bimbetto se ne è approfittato tra lo scontro che c'è stato qualche giorno fa tra me e Dex Lone per fare un video sul suo canale e parlare di questa cosa. Ora, io so che sul YouTube, sul proprio canale, uno è libero di esprimere la propria opinione. Questo bimbetto con un canale merdoso di 600 passa iscritti, che mi ci pulisco praticamente il culo, ha fatto un video sul suo canale qualche giorno fa chiamato Orco Verde o Dex Lone. Chi ha ragione? Io gentilmente ho chiesto a questo qui di eliminare il video perché sinceramente mi dava fastidio che altre persone si aggiungessero tra quello che è successo qualche giorno fa tra me e Dex Lone. Dato che era una cosa nostra tra noi due, è giusto che nessuno debba intromettersi. Anche perché facendo questo video, oltre ad aver aumentato il flame, si sarà guadagnato iscritti e visualizzazioni soprattutto in quanto nel titolo ha scritto Orco Verde e Dex Lone. E a me sinceramente questa cosa ha dato molto fastidio. Uno perché giustamente, come ho detto pochi secondi fa, se due litigano il terzo o li divide o non si mette in mezzo e si intromette mischiandosi tra quello che è successo tra quei due. E secondo perché prima o poi sapevo già che io e Dex ci saremo poi chiariti. Infatti è stato così. Alla fine mi sono alterato dato che gentilmente chiedendoglielo non voleva rimuovere il video. Poi l'ho invitato nelle parti 5 minuti, gli ho ancora chiesto di eliminarlo e lui no, niente, non voleva eliminarlo. Ad un certo punto ho perso la pazienza e non ho insultato dicendogli enormi parole come figlio di puttana, bastardo, queste parole pesanti. Gli ho detto sei un bimbo minchia, sei un fallito, sei un idiota, sei un bimbo minchia, sei un bimbetto, un bimbo nutella. Queste parole qua, parole che però non ha specificato nel suo video. Questo perché? Perché quando uno vede mi ha insultato, uno pensa che le avrà detto figlio di puttana, bastardo. Queste parole che sono anche offensive per i familiari di quello che subisce queste parole. Cosa che io non ho detto perché mi ritengo una persona matura. Però lui giustamente non ha specificato che parole le ho detto nel video e nel titolo ha scritto mi ha insultato e minacciato. Così che uno che guarda il titolo e legge mi ha insultato e minacciato sicuramente penserà figlio di puttana, bastardo, stronzo, queste parole gravi qua insomma. Riguardo la minaccia, minaccia per modo di dire perché anche questa parola secondo me è troppo grossa per ciò che è successo. Con questa enorme parola si riferisci a ciò che le ho detto, ovvero questo. Nel caso io ed ex dovessimo fare pace, se tu non hai ancora eliminato il video, ti inviamo uno strike, se saremo entrambi d'accordo, per far sì che devi per forza rimuovere il video. Perché non ritengo giusto che guadagni iscritti e visualizzazioni grazie a ciò che è accaduto qualche giorno fa tra me ed ex. Anche perché questo bimbetto non ha un canale flame come Mr. Flame, YouTube fa cagare, che portano video inerenti a quello che accade su YouTube. No, perciò perché ha fatto questo? Semplice, per visualizzazioni e per iscritti. Io so che facendo questo video molti si incuriosiscono riguardo questa faccenda e molti daranno visibilità a questo essere, a questo bimbetto. Questo bimbetto, se non lo sapevate, ha 13 anni, ma ne dimostra 3, anzi 2. Ma neanche, questo sta ancora a ciucciare le tette della mamma, ci avrà la bocca piena di latte. Ho voluto fare questo video per informarvi riguardo ciò, dato che se non caricavo questo video, tutti coloro che hanno guardato il video di questo bimbetto erano disinformati di ciò che è accaduto. Senza contare che se non facevo questo video, dove vi ho spiegato riguardo il fattore di aver minacciato ed insultato, perché lui nel suo video, non avendo specificato quali parole le ho detto, uno che vede minacciato ed insultato, sa quali parole avrà pensato che li possa aver detto a questo bimbetto. Prima di concludere il video, vi invito a tutti quanti a commentare sotto a questo video con l'hashtag ZetaronBM. E niente ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, mi raccomando lasciate un bel pollice in su, un commento, iscrivetevi al canale, condividete il video e da Orko Veresitano ci vediamo al prossimo video. Bella!